Musica Alta tensione e febbrile attesa al comune dell'Aquila a 5 giorni dalla decisiva approvazione del bilancio di previsione. Missione impossibile se non arriveranno garanzie da parte del governo sullo stanziamento da 19 milioni di euro come contributo straordinario post-sismico. Il sindaco Massimo Cialente ieri è tornato a Roma e si è detto fiducioso che a giorni arriverà una lettera ufficiale da Palazzo Chigi in cui sarà confermato che i fondi saranno inseriti nel decreto antilocali di fine giugno. Il comune potrà in questo modo approvare intanto un bilancio seppure di natura tecnica in cui dovrà però essere tagliato tutto il tagliabile, dovranno essere aumentati i costi dei servizi e soprattutto la tassa dei rifiuti. La conferma viene dal capogruppo del Partito Democratico Stefano Palumbo, anche lui a Roma ieri assieme al sindaco. Ieri è stato soltanto l'ultimo passaggio di una serie di incontri e colloqui con fronti sia istituzionali che politici attraverso i quali stiamo definendo un impegno da parte del governo a un trasferimento che avverrà dopo l'approvazione del bilancio perché l'unico traghetto utile e possibile è quello del decreto antilocali che è programmato in Parlamento per giugno che dovrebbe garantirci la possibilità in una fase successiva attraverso una variazione di bilancio di poter approvare un bilancio vero al contrario di quello che andiamo a approvare lunedì che è un bilancio tecnico dove sono state tagliate tutte le spese non essenziali. Cosa sarà tagliato? Ma diciamo che spese alla cultura, al turismo, opere pubbliche ma invece verranno garantite e questo insomma ci tengo a rivendicarlo tutti i servizi sociali, i servizi essenziali, quelli non verranno toccati, abbiamo fatto insomma un lavoro che tutelasse questa esigenza. Masterplan per il Sud è solo fumo negli occhi, sono solo vecchi fondi europei non utilizzati, ridotti e ora ripresentati come fossero nuovi. Parola del pugnace consigliere di opposizione del Comune dell'Aquila Giorgio De Matteis, ex vicepresidente del Consiglio regionale che interviene a tre giorni dalla firma all'Aquila da parte del presidente del Consiglio Matteo Renzi in calcio all'elenco delle 77 opere pubbliche in tutto l'Abruzzo che saranno finanziate con 1,5 miliardi di euro nei prossimi anni. Tutto quasi era fritta, spiega però De Matteis sventolando un'inchiesta del quotidiano La Stampa in cui si documenta che in realtà i 35 miliardi per le opere che saranno finanziate in tutte le regioni meridionali con il Masterplan sono quelli del Fondo di Sviluppo e Coesione, già disponibili nel 2014 ma non utilizzati colpevolmente dal governo Renzi che nel frattempo ha anche sornato 17 miliardi di euro per altre finalità. C'è stata l'altro giorno veramente una giornata imbarazzante nella quale abbiamo avuto modo di avere qui all'Aquila il Conte Mascetti d'Italia che è il Premier Renzi e il Conte Mascetti d'Abruzzo che è il governatore D'Alfonso. Da entrambi abbiamo ricevuto delle parole che sono oltre che imbarazzanti anche offensive. Per quanto riguarda Renzi il cosiddetto Masterplan per il Sud è una bufala clamorosa non lo dice Giorgio De Matteis, lo dice un autorevolissimo organo di stampa come la Stampa di Torino che ha condotto un'inchiesta sul Masterplan rilevando attraverso l'analisi condotta da numerosi economisti come questi soldi che vengono dal Fondo di Coesione Sociale siano soldi vecchi per il 75% e peraltro dal Fondo complessivo di circa 58 miliardi sono stati già tolti 17 che sono stati utilizzati dal governo come Bancomat per le diverse esigenze. Quindi vuol dire che a fronte di questo abbiamo poco più di una trentina di miliardi che dovranno essere utilizzati senza sapere quando questi progetti che sono già progetti vecchi oltre che su soldi vecchi per il 75% sempre dall'inchiesta condotta dalla stampa che vengono venduti come nuovi per una campagna elettorale anche abbastanza patetica. Continua la telenovela sul call center aquilano Globe Network che il 30 giugno rischia di perdere 234 lavoratori. Il motivo? L'azienda H3G che lavora per conto della compagnia telefonica 3 ha annunciato che il 30 giugno firmerà la disdetta lasciando a piedi intere famiglie. Un incubo che non vogliono assolutamente vivere né i lavoratori né i sindacati che li stanno supportando in questa battaglia. Dopo la vibrante protesta di venerdì scorso nei pressi della caserma Pasquali in occasione del passaggio del Giro d'Italia di cui la 3 è sponsor nelle ultime ore è intervenuto sulla spinosa questione anche il vice presidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli a margine dell'incontro tenuto a Palazzo Centi tra i responsabili del call center i lavoratori e gli esponenti delle sigle sindacali. Un accordo tra il committente H3G e un operatore di un call center del sito aquilano capace di garantire l'occupazione delle 234 unità che a fine giugno potrebbero ricevere la lettera di licenziamento da Globe Network a causa della disdetta dell'unica commessa lavorata. Questa la proposta di Lolli che ha assicurato come l'avvertenza sia l'attenzione del governo e che si farà carico nei prossimi giorni di promuovere un tavolo per difendere tutti i lavoratori coinvolti. Manca davvero poco ai 180 minuti forse più importanti dell'ultimo decennio per l'Aquila Calcio. Ci si gioca la permanenza in Lega Pro, ottenuta a fatica un quinquennio fa con molta sofferenza. Man mano che si avvicina sabato sta salendo la tensione tra i tifosi. Si spera davvero che questa volta il pubblico aquilano risponda all'appello dei fedelissimi e della società perché c'è in ballo il futuro calcistico di un'intera città e dei colori rosso-blu. Ma come bisogna affrontare questi spareggi? Certamente l'idea del tecnico Perrone è di evitare di farsi prendere dalla frenesia di dover segnare subito, consci però che al termine delle due partite l'Aquila sarà costretta ad avere dalla sua lo score definitivo, pena la retrocessione. Serviranno, come si dice in questi casi, cuore caldo e mente fredda. Concetto ribadito pubblicamente a chiare lettere dal responsabile tecnico Carlo Susini, che è intervenuto sulla stampa, spiegando che l'Aquila dovrà essere equilibrata senza esporre troppo il fianco all'avversario. Per la formazione salgono le quotazioni del giovane di proprietà del Pescara Andrea Mancini, il più vivo lì davanti, dove si fatica davvero troppo a segnare. È l'unico in grado di attaccare con pericolosità la profondità, assieme alle mezzali, e in più viene dal bel gol realizzato all'ultima di campionato contro la Lupa Roma. Servirà come il pane lì davanti, affiancato da un attaccante mobile ed esperto, magari come De Sousa. I problemi maggiori ci sono in difesa, dove mancherà Emanuele Pesoli, almeno per l'andata. Intanto, nella giornata di ieri, è stato reso noto dalla Lega il direttore di gara di L'Aquila-Rimini. Sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze. Calcestruzzo non conforme, questo il clamoroso motivo che ha causato lo stop dei lavori nel cantiere del Palazzetto dello Sport del Centico Lella all'Aquila. L'avveniristico impianto finanziato dal governo giapponese con 4,5 milioni di euro, donati nella gara di solidarietà nell'immediato post-terremoto del 6 aprile 2009. Una grani in più per un'opera pubblica nata sotto una cattiva stella, visto che va ancora risolto il problema della copertura economica. La donazione del giapponese copre infatti solo la metà dell'opera. Altri 4 milioni di euro gli deve trovare il comune dell'Aquila. A sollevare dubbi sulle caratteristiche della materia prima utilizzata, il genio civile, che a quanto trapela, si appresta ad imporre varianti progettuali in corso d'opera. Solo con esse si potranno proseguire i lavori. Ma il tempo passa, le incognite restano e molto difficilmente il nastro di inaugurazione potrà essere tagliato, come ottimisticamente pronosticato, ad inizio 2017. L'altro grosso problema, come detto, è quello dei fondi mancanti. 2 milioni di euro dei quattro necessari arriveranno, così almeno è stato garantito dal sindaco Massimo Cialente, da una delibera Cipe. Ma trovare gli altri 2 milioni sarà comunque un'impresa ardua, visto che il comune vacilla perché non ha i fondi nemmeno per chiudere il bilancio di previsione, se non interverrà il governo con un trasferimento straordinario di 18 milioni di euro.